A Cagliari lo stabilimento delle fonderie e acciaierie sarde demolito quasi del tutto. Ce ne parla nel servizio Maurizio Ciotola. Qui sorgeva lo stabilimento della FAS Ferrerie e Aciaierie Sarde dove si produceva il tondino in ferro per il cemento armato. Nel 1995 la società dichiarò il fallimento e lo stabilimento chiuso restando un'area inutilizzata per quasi 40 anni. I capannoni però avevano un importantissimo valore architettonico tra cui il più grande venne realizzato ad immagine della stazione Atocia di Madrid. Oggi come vediamo è partito l'intervento con cui verrà realizzato un importante centro commerciale di grandiosa estensione. Ma delle antiche e pregiate strutture non è rimasto praticamente nulla se non alcune pareti o solo parti di esse che non esprimono neppure lontanamente l'assuntosità architettonica degli immensi capannoni originari. A voler far luce sugli interventi che la città di Cagliari ha subito nei decenni ci rendiamo conto che la brutalità con cui sono state aggredite e spazzate vie strutture idili storiche e meno storiche della città e dai paesi attigui ha dell'incredibile se non dell'indecente. Capiamo che è mancata allora, ma come vediamo manca ancora oggi, la capacità di salvaguardare un passato che parla della nostra storia. Strutture che presentano la loro bellezza seppur dedite a impianti industriali ma che connotavano spazi, lavori, storie con un rilevante tratto architettonico. Oggi, qui dove sorgeva l'ex FAS, lascerà un'imponente megastruttura commerciale anonima sul piano architettonico e, come avvenuto per tutto ciò che in città ha rimpiazzato l'antico, resterà avulsa al territorio in cui sorgerà, imbruttendolo. Con un consenso che va oltre le autorizzazioni formali prive di una visione generale nei confronti delle quali dovremmo quantomeno interrogarci per educare al bello chi nelle istituzioni è privo.